...qualcosa di più profondo che voi ci avete fatto percepire, gustare e anche superando momenti brutti intravedere come un futuro bello per noi e auguriamoci per tutti. Grazie, grazie di cuore. Vi chiediamo la cortesia se liberiamo la chiesa perché c'è la messa fra dieci minuti, ma ovviamente chi vuole rimanere per la celebrazione resti pure. Grazie. Grazie.